Ecco, grazie, ma intorno a finire, chi sta bene, chi sta bene, io vi ho visto tutti i paesi, però poi siamo uccidendo uno a uno, tutti, tutti, ma intorno a finire, ma intorno a finire, chi sta bene, chi sta bene, chi sta bene, Non c'è una sinistra, non c'è una sinistra, non c'è una sinistra. Non c'è una sinistra, non c'è una sinistra.